Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su Planetwin365.news trovi statistiche, dati e analisi approfondite e fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su Planetwin365.news. Scenes of each episode with award-winning CBS News correspondents and producers in Postmortem, a weekly deep dive. Listen to 48 Hours, wherever you get your podcasts. Apple Gift Card is a practical gift that unlocks a world of entertainment and fun. You can send it via email or give a physical card to your loved ones. Your friends and family can spend it on their favorite Apple services, including Apple subscriptions. Apple Gift Card can be used to buy all things Apple. Products, accessories, apps, games, movies, TV shows, iCloud Plus and more. Visit apple.com for details and to send Apple Gift Card to your friends and family this holiday season. Perché fare una scelta vuol dire rinunciare a tante cose. E a volte è un eccesso di consapevolezza per una persona curiosa che nella vita comunque si sperimenta e va a caccia della verità e come sapete a volte la verità si trova dietro un mondo fatto di immaginario, di fuffa che magari è bello come può essere un sogno. E sono tante persone che nella vita magari non hanno nessuna possibilità di realizzare un sogno ma per tutta la vita lo vivono fino a renderlo reale perché appunto il sogno è vivere il sogno e l'amore è vivere l'amore, non ci sono cazzi, non esiste un traguardo, al massimo esiste una conclusione. E quindi di conseguenza se andiamo a vedere con razionalità l'amore andiamo a perderne il significato andiamo a perderne completamente il senso che è il grande problema delle consapevolezze di oggi che andando troppo verso una direzione dove andiamo verso un io, perdiamo il noi, il nostro. E quindi fa quasi strano prendere un brano che è storia, che chiunque conosce, che chiunque ha cantato che ancora oggi emoziona e andare a ricordarsi come se diciamo non fosse già eloquente di per sé musicalmente andare a ricordarsi che è un brano che parla di un amore che veramente non ha occhi se non gli occhi del cuore non siamo a Boris, è serio, non sto scherzando, è un amore che dice io non voglio perdermi nulla cioè anche mentre stai dormendo io voglio essere sveglio e vederti, mentre qualunque cosa fai io voglio essere lì. Quando si vive un amore, una passione, è così, è come quando stai uscendo una bella serata e dici, Dio, devo andare al bagno e te la tieni perché stai lì nel flusso, non vuoi interrompere il flusso perché sai che ogni minimo cambiamento potrebbe appunto modificare le cose semplicemente non che poi te ne vai, vai al bagno e finita la serata, no, però magari poi quell'intensità che si sta creando non è detto che si ricrei così subito, è così, la vita è fatta di comete, di piccoli atti per questo l'innamorato per eccellenza, il protagonista di questo brano è proprio un uomo, una donna, chiunque un brano universale che non vuole perdere un solo istante, probabilmente per paura di perdere quella intensità per paura di perdere la persona che è davanti, ecco inizia la razionalizzazione, inizia la retorica ma non c'è nessuno che non abbia comunque almeno una volta nella vita amato tanto profondamente anche solo per bisogno, anche solo per voglia di capire, da non volersi più staccare e oggi siamo tutti lì a dire no, 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 non lo so, vediamo così, no, è esagerato cioè se una persona mostra troppo i sentimenti subito la allontaniamo perché sappiamo come se c'è una truffa dietro semplicemente magari abbiamo davanti una persona passionale che va al top e poi ovviamente sappiamo che c'è un down e nessuno è disposto a scendere con te nell'inferno però così ti perdi il paradiso, il concetto è questo, dell'altra persona ma insomma bisogna vedere, secondo me noi siamo una generazione transitoria che sta cercando un equilibrio ma in una cosa che non ha equilibrio ed è come questo brano che appunto va a fondo, va senza guardarsi attorno non voglio perdermi nulla, una melodia meravigliosa della strumentale, del cantato un brano che apre, apre tutto, apri tutto, biascica visto che ci siamo non c'è un solo ripensamento, la testa non arriva nemmeno un secondo perché il sentimento, il cuore, l'energia è più forte di ogni cosa e mi domando, riascoltando questo brano quanto abbiamo acquisito, sì, per certi versi ma quanto abbiamo perso come possiamo pretendere oggi che un artista faccia un brano del genere se siamo tutti qua, se viviamo col preservativo come si fa? cioè qual è la differenza in una coppia rodata, eh, rodata quindi che stanno insieme da anni, che stanno insieme mettiamo tra due che convivono qual è la differenza tra chi scopa con e senza preservativo ammesso che insomma basta venire fuori più o meno, non voglio fare il medico però insomma per esperienza alla fine bene o male ecco, figli non li ho fatti preservativi ne ho stati pochi ahimè, errore mio però quello che voglio dire è noi viviamo col preservativo e qual è la differenza? eh, che lì stai scopando per godere senza c'è il rischio di fare un figlio cioè una cosa che ti unisce a vita rischiandoti anche di rovinare il rapporto questa metafora, forse anche di cattivo gusto se vogliamo, eh, noi non so mai chi può ascoltare chi può sentirsi un pochino messo in soggezione da determinate uscite magari questa poco però in generale però ragazzi il discorso è questo oggi i sentimenti li viviamo col preservativo ehm, abbiamo ragione perché sono tante malattie che si possono prendere rischi anche di fare un figlio con la persona sbagliata è giusto però sempre lì non possiamo pretendere poi che vengono fatti brani come questo perché se la società non ti dà quell'imprinting noi l'artista non l'artista vero l'artista quello che ti fa la canzone vera ha bisogno di nutrirsi e quindi oggi magari chi vuol portare un sentimento assolutista racconta tante cose racconta l'autocommiserazione racconta un sentimento che è completamente dettato dal bisogno ma qui si va oltre ecco, qual è la differenza tra un brano d'amore estremo e un brano d'amore dettato dal bisogno e lo senti nell'interpretazione quando non è io ho bisogno di te ma è un io mi metto nella posizione di darti tutto e adesso vivo di te quindi sì ho bisogno ma sono pronto a sfragellarmi al suolo a rinascere semplicemente sto andando verso il sole e consapevole che mi brucerò ma continuo ad andare è questo il concetto e questa è la riflessione che mi induce un testo così che mi induce anche il solo camminare e sentire una radio che passa questo brano e la domanda che continuo a pormi è quanto abbiamo perso per essere più al sicuro per soffrire meno e poi soffriamo lo stesso io non sto dando risposte non lo so io veramente non lo so anzi se qualcuno ha delle risposte me le dia perché io sono il primo timorato e sono il primo che poi va contro se stesso sono il primo che ama fino in fondo e sono il primo che non ama mai siamo al centro di un burrone con tutti che camminano attorno io personalmente sto cercando una scala per risalire ma la verità è che siamo nel burrone perché è molto più comodo non avere scelta che dover scegliere perché se non hai scelta puoi metterti il cuore in pace ma se puoi scegliere questo cuore impazzisce completamente l'eleganza incontra la tecnologia Lancia Y da oggi nei nuovi allestimenti oro, platino ed eco-chic GPL partono gli incentivi Lancia gamma Y hybrid da 139 euro al mese con finanziamento interessi zero e rottamazione e dopo un anno puoi tenerla o sostituirla anticipo 1600 euro 11 rate da 139 euro e rata finale 12.058 euro Tanzero TAIG 381 offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 dicembre Grazie a tutti i nostri spettatori